All'interno della Tablet Design Gallery troviamo le diverse soluzioni in ambito tablet della firmate ASUS spaziando dai 7 ai 10 pollici, dai sistemi operativi Android o Windows 8 o Windows RT diversi fattori di forma, diverse finiture delle cover, diverse soluzioni con prodotto stand alone o con tastiera wireless o fisica integrata fino ad arrivare a questo oggetto che è l'oggetto che presentiamo per la prima volta sul mercato italiano, il PhonePad PhonePad nel nome sottolinea la vocazione di questo oggetto, è una sintesi di due mondi tablet e smartphone perché è un tablet da 7 pollici come fattore di forma perciò pratico e conveniente, non l'utilizzo con una sola mano ma che al di là delle funzionalità tipiche di un tablet, di un ottimo tablet assicura anche il modulo 3G, non solo dati ma anche fonia per cui con un unico prodotto in realtà hanno a disposizione le funzionalità tipiche dei due diversi oggetti il PhonePad tra l'altro si fa apprezzare particolarmente per la qualità dei materiali l'alluminio della cover che lo rende particolarmente elegante e raffinato dimensioni e peso estremamente contenuto nella versione che verrà commercializzata sul mercato italiano avremo anche una doppia webcam frontale e posteriore il che è appunto per offrire una soluzione che sia versatile e completa e soprattutto offerta diciamo con un pricing decisamente interessante sul mercato italiano verrà commercializzata a 229 euro grazie a tutti